cari amici del canale youtube di grossoshop.net ecco a voi xiaomi redmi 3 pro un nuovo box di vendita per un nuovo video unboxing sul nostro canale youtube come al solito lo staff vi dà il bentornati oggi vedremo solo cosa c'è nel contenuto di vendita ecco a voi questo nuovo dispositivo di casa xiaomi stiamo parlando chiaramente di redmi 3 pro pro perché al sensore biometrico di sblocco mediante impronta digitale nella parte posteriore poi abbiamo chiaramente snapdragon a bordo caricatore da parete non in formato europeo non vi preoccupate perché se acquistate il dispositivo sullo store troverete l'adattatore per le nostre prese poi troviamo un classico cavo usb micro usb davvero contenuto il box di vendita questa è la boot animation di questo terminale davvero piccolo compatto snello molto bello anche al tatto poi arriverà la video recensione completa arriverà anche il versus con la sua principale antagonista ovvero meizu note 3 insomma ne vedremo delle belle sempre sintonizzati sul canale youtube di grossoshop.net arriveranno anche delle guide esclusive per questo modello ci sono già quelle per mi 5 e mi 4s insomma siamo davvero al completo blog.grossoshop.net oppure potete acquistare il dispositivo mediante il link in descrizione lo staff vi saluta e ci sentiamo come sempre nei prossimi video grazie a tutti